Che cosa vuoi, Blar? Il tuo perdono. Ti chiedo scusa, Chuck. Ho fatto un errore. So che non ci sono scuse, ma... era solo un bacio. Le persone che tu manipoli... so bene quanto poco rispetto hai per loro. Non è così. Non è questo che provo per te. E non lo farò mai più. Te lo prometto. È stato uno sbaglio. Sono in riunione. Ti chiamo più tardi. Grazie a tutti.